Nel seguente caso di mascella e dentula, il paziente si è presentato con sei impianti già inseriti nell'arcata superiore. Il setup virtuale dei denti nel software Circonzan Modellier ha mostrato che gli impianti erano orientati verso il palato. Per raggiungere un equilibrio tra funzione, stabilità ed estetica nel restauro finale, si è quindi deciso di produrre un restauro avvitato su barra dal design innovativo, la Bart Platte. Il design della barra è stato realizzato secondo un nuovo flusso di lavoro CADGAM. Tramite una funzione avanzata del modulo barre, la struttura primaria è stata adattata geometricamente alla zona palatale del wax app e personalizzata con gli strumenti di modellazione libera. Grazie al modulo attacchi, è stato poi possibile generare ulteriori ritenzioni nella barra, che è stata successivamente fresata con la fresatrice M2 Dual Telescoper. La digitalizzazione della barra ha fornito la base per la modellazione della sovrastruttura finale, che è stata fresata in resina Abro Basic, e stratificata con Gingiva Composites prima dell'applicazione sulla barra. Grazie alla tecnica della Bart Platte, è stato possibile realizzare un restauro estetico nonostante gli impianti orientati verso il palato. Grazie a tutti.